Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Di Battista e sono un deputato del Movimento 5 Stelle. Oggi parliamo di una delle miliardi di emergenze che ci sono nel nostro paese, però qualcosa di cui si parla molto poco, la presenza della mafia nei comuni, negli enti locali. Dovete sapere che negli ultimi anni oltre 100 comuni sono stati sciolti per mafia in Italia, ma non soltanto in Sicilia, in Calabro, in Campania, anche in Liguria, in Piemonte, in Lombardia e questo ci fa capire quanto la mafia ormai sia un fenomeno che non riguarda soltanto una parte dell'Italia. Che cosa succede quando un comune viene sciolto per mafia? Succede che i politici, gli amministratori, il sindaco, i consiglieri subiscono dei procedimenti che devono valutare quanto il loro comportamento abbia permesso l'entrata della mafia nel loro comune. Qualora uno di questi politici venisse giudicato incandidabile, si può in Italia pensate, comunque candidare fino a che non sopraggiunge la sentenza definitiva. Qualora dovesse addirittura sopraggiungere la sentenza definitiva, è incredibile questa cosa, il politico può comunque candidarsi a patto che salta un turno. Vi faccio un esempio, io sono il sindaco di un paese sciolto per mafia, vengo giudicato incandidabile in via definitiva il 30 aprile. A maggio ci sono delle elezioni europee, io non mi posso candidare, quindi salto la possibilità di candidarmi nelle elezioni europee, ma poi a settembre ci sono le elezioni nello stesso comune dove io ero sindaco comune sciolto per mafia, io comunque posso candidarmi, basta che salto un turno. È incredibile, succede in Italia, ma forse non è casuale, dato che l'Italia è il paese dove lo Stato è andato a trattare con la mafia. Con questa proposta di legge del Movimento 5 Stelle, prima firma Riccardo Nuti, noi intendiamo realizzare una vera e propria rivoluzione, una vera e propria lotta al fenomeno mafioso, come? Obbligando il politico giudicato incandidabile perché ha permesso l'entrata della mafia nel suo comune a non candidarsi fino a che non sopraggiunga un'eventuale sentenza che lo scaggioni del tutto, che lo dichiari al 100% innocente e qualora dovesse essere giudicato incandidabile in via definitiva, non si può candidare in nessuna elezione né alle europee, né alle politiche, né alle comunali, né alle regionali per 10 anni dalla data della sentenza definitiva. Questo ci serve per prevenire la crescita del fenomeno mafioso che utilizza le istituzioni, utilizza i comuni, utilizza gli enti locali per rafforzarsi, come? Prendendo gli appalti, perché in un comune dove c'è la mafia i politici volontariamente, involontariamente, in maniera diretta, in maniera indiretta sosterranno quei due o tre boss locali, quei potenti locali, i loro interessi, le loro aziende con appalti, con favori e questo sarà a discapito, è a discapito dell'intera collettività. Se in un comune c'è la mafia, chiaramente il politico, sostenendo quelle poche persone o pochi mafiosi, non creerà concorrenza all'interno del suo comune e quindi colpirà quelle imprese etiche, imprese oneste, imprese produttive che invece grazie appunto alla concorrenza potrebbero prendere degli appalti e garantire il miglioramento dei servizi nel comune, ma soprattutto l'aumento dei posti di lavoro. Se in un comune c'è la mafia, sempre più giovani abbandoneranno quel comune per andare poi non si sa più dove in Italia, dato che la mafia c'è pure al nord, magari all'estero, oppure delle persone anziane saranno costrette ad accettare i ricatti dei mafiosi del comune e a accettare dei lavori davvero non dignitosi. Pensate che in molti comuni in Italia i pensionati che non arrivano a fine mese sono costretti a fare per 40 Euro al giorno le vedette per gli spacciatori dell'organizzazione mafiosa, proprio per campare, è incredibile ma succede questo. Con questa iniziativa Informiamoli Tutti, noi intendiamo portare le proposte del Movimento 5 Stelle e ce la stiamo facendo con Informiamoli Tutti, stiamo arrivando a milioni di persone, pensate che il primo video che ho realizzato è finito sulle home page di oltre 3 milioni di italiani, possiamo realizzare quello che ci manca, l'informazione se tutti quanti ci mettiamo del nostro e facciamo alla nostra parte. Questa è la proposta di oggi, vi chiedo di diffondere al più possibile e di partecipare all'iniziativa Informiamoli Tutti. Grazie 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 Grazie